E bella a tutti ragazzi sono Rimoldigno e oggi ragazzi siamo qua in un video veramente ma veramente assurdo perchè oggi si avete letto bene dal titolo andremo a regalare il nuovo Macbook Pro Raga guardate qua a mia mamma Ragazzi si ho fatto uscire intorno a Natale il video del regalo a mio papà che è il Samsung S10 E ora ho aspettato un po' per pubblicarvi questo video che è il video del Macbook Pro di regalo a mia mamma Ma raga per questo video voglio almeno 5000 like raga assolutamente spolliciate tutti e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti Io cosa andrò a fare perchè sono veramente euforico andrò a startarmi una partita di Fortnite durante la partita in singolo di Fortnite Andrò a chiamarla e dirgli di parlare in realtà gli darò questa bestia qua ragazzi Mia mamma ovviamente non è una molto che si intende di informatica Quindi io l'ho già aperto e ho già fatto la prima configurazione Io l'ho un po' scartato ma raga la sorpresa vale comunque È un Macbook Pro raga Mi raccomando tanti like e iscrivetevi al canale Io e noi ci vediamo in gioco Bella Boys Ciao raga Ok ragazzuoli eccoci in game Direi di andare a buttarci ragazzuoli in un luogo non troppo vicino alla... A dove si butta la gente Così poi possiamo fargli il regalo e faccio in tempo anche a non morire e poi proseguire la partita Però ragazzuoli ho deciso di fare una piccola cosa Quando gli darò il regalo gli dirò di chiudere gli occhi E prima gli darò in mano questo che è il monopoli di Fortnite Facendola rimanere un po' stupita E poi gli darò il Mac Quindi le ho nascosti adesso sono qua sotto a una mensola che ho qua Quindi lei non li può vedere Dai raga voglio tanti like e tante iscrizioni mi raccomando Raga ho speso una bella cifra per quel Mac C'è stato anche un piccolo aiuto da parte di mio papà Quindi insieme abbiamo fatto questo grande regalo a mia mamma Ok ragazzi sono atterrato all'ago languido Ma c'è una tempesta tremenda Non riesco a capirci veramente nulla Direi di trovare un posto veramente un po' camperato Dove poterci boxare e fare il regalo a mia mamma La cosa bella ragazzuoli Perché rimo a tua mamma regali un PC Ho scelto apposta di regalare a mia mamma un PC Perché lei appunto ha un PC ma si trova veramente male Ha un sacco di problemi È un PC vecchissimo di circa 4 anni fa Infatti raga in questi giorni ho registrato un po' di messaggi Mentre lei si lamentava Ho detto io già avevo progettato il regalo agli PC Sentite questa è lei che si lamenta Fa anche ridere Simone vieni un attimo Non mi va il PC Poi raga Dai cosa ha questo PC Simone vieni a darmi una mano Avevo lasciato il telefono mentre lei ci stava lavorando col PC Perché va avanti a parlare Aspetta E ragazzuoli quindi sarà veramente spero molto felice di questo regalo Io direi che come nascondiglio non è per nulla male Siamo anche vicini alla safe Mi nascondo qua nel sottoscala E andiamo a chiamare mia mamma Let's go boys Non vedo l'ora di fargli la sorpresa Ok Rimo calma Ci togliamo le cuffie Ok Poi tolgo il secondo l'audio di gioco Che se no qui si sente tutto l'audio di gioco Ok perfetto L'ho tolto E ci siamo ragazzuoli Andiamo a chiamare mia mamma Raga like Sono veramente tanto euforico Ma 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 Eh Vieni un secondo Dai due secondi Devo vedere il mio film Dai Vabbè il tuo film aspetta un secondo Dai sediti un secondo per favore Dai che inizio adesso A che ora inizio il film Eh adesso Alle 9.25 Sediti con un secondo Ah perché Dai che stavo registrando una cosa Mi serve anche tu Dai Simone Per favore Dai ci sei Sì ci sono Ok Allora stavo registrando una cosa Però ho interrotto la registrazione Perché mamma Ho un regalo da farti Sei felice? Allora Da te non so cosa aspettarmi No non è uno scherzo mamma Ti giuro tutto Perché ma questo non è uno scherzo Quando mi siedo qui è sempre scherzo Non è uno scherzo È una pura verità Sì va bene Vai Chiudi gli occhi E te lo do in mano Chiudi gli occhi Cioè no No mamma non ti do Giuro No mamma non ti do nulla di cattivo in mano Chiudi gli occhi per favore Ok Dammi l'altra mano Ok Te lo do in mano il regalo No no stai tranquillo Mamma non ti faccio male Ma mamma E qua è una scatola Tieni le mani Mamma Ok apri gli occhi Monopoli Insomma tu stai scherzando Non ti piace No ma io non so giocare a Fortnite Ma dai Sì mi ho regalato A me ti ho fatto il regalo No ti ringrazio Ma come si fa Devo giocare Cioè va bene ma Affronti i tuoi avversari Anza la voce Eh sì no Perché non mi si sente Scusami Io ti ringrazio del regalo Ma Vabbè ma ti ho fatto Non ti piace No è carino Ma io non so Non so neanche come si gioca lì No dai mamma Non è questo regalo Dai questa era una burla Ma uno scherzo Ok Adesso ti do il regalo vero Dai questa era una scherza Il mio Monopoli di Fortnite A me piace Il Monopoli di Fortnite Dai chiudi gli occhi di nuovo Te lo do in mano Però tenta Non mollarlo Mamma non ti do in mano Nient'altro Se me lo Se me lo fai cadere Quello che ti Mamma Chiudili bene però Ok Adesso te lo do in mano Aspetta che pesa Una tonnellata e mezza Cos'è che stai facendo Aspetta un secondo Che cambio anche visuale Dell'inquadratura Un secondo Aspetta mamma Aspetta 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 Apri la mano E' pesante Apri gli occhi Cos'è? E' il nuovo MacBook Pro Dai è vuota E' stascata L'ho messa dentro Ma non è possibile Dai va bene è vuota Aprilo Ma dai Ma no ma te Ma poi Perché dai un regalo così Dai Dai E' un regalo Da parte mia Di tutti i miei fan E anche di mio papà No dai Adesso lo apro Ma tanto sai che mi stai facendo Lo secondo scherzo Allora ti dico già Aspetta L'ho già aperto io E ti ho fatto anche la configurazione Così tu che non sei molto Ho fatto sentire anche i tuoi scleri E i miei fan Quando uno riesce ad andare Col tuo pc che non va Quindi dai Ma non c'è il pc qua dentro Fidati di me Ma figurati Ma dai ma guarda Quello quello che Ma no ma non è possibile Ma c'è davvero Guarda Uh che è felice come una bambina Ma grazie 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 Cico Sei un ragazzo generoso Ma non dovevi Grazie Dai ma prendilo a meno in mano Vabbè che è il mio pc Io ti ho già fatto Ma questo è troppo Aspetta che c'è un problema Non rompiamo Ma io non ho bisogno di un pc così Così Scicoso Me ne bastava uno Tranquillo Ok Allora Guardalo qua Facciamo Posso farlo vedere anche in chat Guardate qua raga Il nuovo macbook pro Attenzione mamma Lo apra Lo apra qua Io l'ho già fatto una piccola configurazione Aspetta No Poi rifarlo cadere Ma questo l'ho pagato No capito Aiutami Aspetta così lo devi aprire Guarda Ma dai che bello Sgroolf Mamma ti piace Eh sono rimasto Con questo non avrai più problemi Guarda che roba Mi sono rimasto di stucco Sì Schi Schi Mi rimasto di stucco Ti piace Vedi che non ti faccio sempre gli scherzi Ti voglio anche bene Ti faccio anche regali Anch'io ti voglio bene Però ascoltami È un regalo molto prezioso Dai non è necessario Io sai che comunque faccio tribolo come io Adesso Ti piace Bello Caspita Grazie Eh ma mi intenerisci così No non devi No sei commossa No 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 Vabbè dai Raga direi che Ischiri La missione C'eri rimasto male Col monopoli di fortnite Ma io no Ma ascoltami Non me ne faccio niente Eh sì in realtà Ma che cos'è sto schifo No non è vero Allora intanto mamma Questo è molto inglese Sì vai vai già di là Perché io stavo registrandola Guarda come se lo prende Se lo appisca Questo me lo devo guardare Però c'è il filmetto Posso guardarlo dopo Sì guarda il pc Aspetta che io sono in safe Qua mamma sta morendo Ciao 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 grazie Guarda come se l'hai portato via Grazie a tutti Grazie 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 Guarda guarda Raga non gliene fregava niente Cos'è che hai fatto cadere Pensavo che era il pc Oh c'è no mamma Non far cagheri Cagheri cose Ok raga Io scusatemi Ho fatto il regalo Ok ma stavo per morire Caspita Allora ok Rima devi correre Mamma tu Vuoi aspettarmi a provarlo Che mica che fai dei danni Sì sì Ti aspetto Ecco Già che vedo che maneggia Raga Ho visto lì solo il mio letto Che stava maneggiando qualcosa Ho detto no 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 Attenzione Ce l'ho anche fatta Non ho neanche le cuffie Mamma non parlare ora Per favore Aspetta È caduto un pezzo Eh È caduto un pezzo No 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 Come è caduto un pezzo Del pc Mamma No non è caduto niente Non mi fa preoccupare Mannaggia Mi dice che è caduto un pezzo Allora attenzione Siamo rimasti in 20 Io ho una pistolina bianca Va bene E 41 di vita Non so neanche cosa sia successo In tutto sto tempo Ok raga Attenzione Oh c'è uno sceldone Sì l'ho dato Servirebbe almeno un'arma eh Ah raga Mi stanno prendendo No vabbè Ma mi stavo camperazzando Avevo appena trovato Un falò per curarmi Vabbè raga La partita di Fortnite Sarà andata male Ma il regalo a mia mamma Siamo pure arrivati I sedicesimi Senza far nulla Direi che è fatto Io ragazzoli Vi ringrazio per aver visto Questo video Iscrivetevi al canale Lasciate un like Fate anche voi Dei regali ai vostri parenti Per farli felici Come io Li faccio Ai miei genitori Che li ho fatti per Natale A mio papà L'S10 A mia mamma Al macbook pro Io vi mando Un salutone E un bacione Se giocate a Fortnite Codice Se giocate a Fortnite Codice Rimo Nei negozi oggetti Io vi auguro Una buona vacanza Un termine di vacanze Ottimo E vi mando un salutone Bella boys Ciao raga Ciao Ciao